Ciao da Luci! Oggi faremo insieme il mio vestitino Optical. Allora, avevo già annunciato nel gruppo Facebook che l'avrei fatto con un altro filato. In realtà si può fare con entrambe, però siccome il vestitino con l'altro filato l'avevo già iniziato, ora procedo con questo e quindi vi dico che c'è un filato alternativo. Allora, per il modello in bianco e nero avevo utilizzato un filato preso da Italia Artisan Yarns, quindi un filato della Ice Yarns, ed era nello specifico il Gonca, e ne avevo preso un lotto bianco e un lotto nero. Per quest'altro, invece, andremo ad utilizzare un altro filato, che è lo Shipies Summit. Allora, ora li vedete con due etichette diverse, ma semplicemente perché è stata rinnovata l'etichetta, e questa è l'etichetta precedente, suppongo, scusate. È un filato veramente molto soffice, veramente molto bello. E adesso vi dico anche la composizione. Vi dico che è un 100% microfibra, quindi adatto anche alla mezza stagione. Diciamo che è un filato che va bene un po' per tutte le stagioni, un po' in quattro stagioni. Ed è, vediamo qua, un 100 grammi per 225 metri, quindi comunque già una bella metratura. È un super soft, come vi ho detto, è morbidissimo, è anche abbastanza luminoso come filato, anzi, senza l'abbastanza, è luminosissimo, come potrete vedere. Ovviamente sul colore chiaro si nota di più, sul colore scuro magari un po' meno, ma è un colore abbastanza brillante. E io l'ho scelto in queste due tonalità, cioè il marrone e il tortora. I colori sono il 116 per il tortora ed il 115 per il marrone. Io ne ho 300 grammi di marrone e 300 grammi di tortora. Direi di passare alla spiegazione del progetto. Per il mio vestito ho avviato 94 catenelle. Allora, voi potrete anche cambiare il numero di catenelle iniziali in base alla vostra taglia o comunque alla scollatura che volete ottenere. Perché in realtà, essendo una lavorazione tutta maglia alta, non c'è un multiplo. Quindi potrete tranquillamente variare le catenelle di partenza senza fare troppi calcoli. Ovviamente, se aumentate le catenelle sul retro, dovrete aumentarle anche sul davanti. E se volete mantenere la mia proporzione, aumentarle anche sui lati. Oppure no. Se volete una scollatura, per esempio, più rettangolare della mia, quindi con un rettangolo più allungato, potrete tranquillamente variare soltanto queste catenelle. Se invece volete una scollatura quadrata, potrete ridistribuirle in modo da avere tutti e quattro i lati uguali a vostra scelta. Perché comunque non c'è assolutamente un multiplo da rispettare. Andremo a, al termine, durante, scusate, il primo giro, andremo ad aggiungere solo delle catenelle, quindi una catenella per ogni angolo, che sarà il nostro primo aumento e andrà a definire quelli che sono gli angoli. Poi, successivamente, lavoreremo proprio su questi angoli con il classico raglan 1-1. Quindi faremo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Però, vando alle ciance, direi che andiamo subito all'inizio del nostro lavoro. Fatte le mie 94 catenelle, tengo ben dritta la lavorazione e dentro nella primissima catenella, andando a chiudere con una maglia bassissima, in questo modo. Porto dietro il filo e parto facendo 3 catenelle. Quindi ora vado a fare una catenella. Aprite bene sempre per vedere dove siete entrati, perché ovviamente dovete andare in quella successiva, quindi in questo modo siamo a 2 maglie alte, 3, 4, fino ad arrivare a 20 maglie alte. Arrivati a 20 maglie alte, facciamo una catenella e senza saltare nessuna maglia, nella successiva riconinciamo a contare, questa volta fino ad arrivare a 27 maglie alte. Stiamo quindi andando a lavorare il retro o il davanti della nostra maglia. se vi è più comodo per non perderlo, in questo, quindi nell'aumento, potete mettere un marca punti. Io non l'ho messo perché effettivamente lo vedo, però per comodità potete tranquillamente farlo. ora proseguite nello stesso modo per tutti e quattro gli angoli, quindi ora farete 27 maglie alte, farete dopo la 27esima una catenella e senza saltare nessuna catenella ricomincerete a contare 20 maglie alte, quindi vi troverete dall'altro lato una catenella altre 27 maglie alte. Noi ci rivedremo qui per la chiusura del giro. Arrivati a questo punto abbiamo la nostra bella scollatura rettangolare, abbastanza grande per far entrare comunque la nostra testa all'interno della scollatura. Come potete vedere questo filato è leggermente vedete è leggermente elastico quindi si lascia andare per bene nel senso che tira quando è messo così però poi vedete che se lo tirate bene si apre. Ora cosa facciamo? Proseguiamo in questo modo quindi abbiamo fatto l'ultima maglia alta andiamo a fare una catenella e con una maglia bassissima entriamo nella terza catenella di inizio giro e andiamo a chiudere il nostro giro ora alziamo la maglia in questo modo teniamo con uno o due dita come volete comunque fermate il filo se lo fate a coltello riesce meglio girate in questo modo entrate sempre nella terza catenella ne uscite dopo di che sempre tenendo uscite da due e uscite da due e abbiamo simulato la prima maglia alta così che non si vedrà poi la giuntura rimarrà piuttosto invisibile ora andiamo a lavorare tutte le maglie alte come sotto quindi andiamo a fare su ogni maglia alta una maglia alta arrivata qui nell'angolo quindi sull'aumento abbiamo aumentato nel giro sottostante di una catenella all'interno di questo forellino che si crea quindi sotto questa catenella andiamo a fare una maglia alta una catenella ed una maglia alta quindi abbiamo fatto aumento su aumento ora andiamo a lavorare state attente ad allargare bene perché la prima maglia ha la sua catenellina che va a nascondersi sotto a queste maglie quindi per farle tutte spostate le maglie che avete nell'angolo e andate a lavorare bene la prima dopodiché andiamo a lavorarle tutte fino al prossimo angolo dove faremo la stessa cosa quindi in quest'altro forellino andremo a fare una maglia alta una catenella e una maglia alta e così in tutti i nostri angoli arrivati di nuovo a fine giro io ho lavorato anche l'ultima maglia faccio una catenella e dentro vedete qui non so se si vede bene c'è questo si forma tipo una catenellina un po' rialzata ecco noi passiamo proprio sotto a quella prendendo bene vedete entrambe le costine che si formano sopra e chiudiamo con una maglia bassissima in questo modo ora non dobbiamo fare altro che quello che abbiamo fatto vedete come si mimetizza benissimo la prima maglia quasi non si vede perché è molto intrecciata come le altre maglie quindi si vedrà molto meno la giuntura ora facciamo la stessa cosa vi faccio vedere di nuovo io prendo a coltello l'uncinetto lo alzo all'incirca di quanto è alta una maglia prendiamo bene la misura quindi facciamo in questo modo teniamo fermo entro di nuovo dove sono appena entrata per chiudere il giro vedete abbiamo tre occhielli esco da due una volta che sono uscita da due posso uscire dagli altri due se vi scappa lo riprendete e abbiamo fatto di nuovo la maglia in questo caso l'ho tirata male vedete che si è tirata male si vede proprio quindi la rifacciamo alziamo giriamo entriamo la prendiamo in questo modo uno e due vedete adesso è fatta bene ve ne accorgete perché rimane proprio un filo molliccio quindi sapete che l'avete fatta male e potete tranquillamente disfarla e rifarla quindi riprendo la mia impugnatura solita e vado avanti ecco qui a fare quello che ho fatto fino ad ora vedete non si vede la partenza del giro è molto molto camuffata non è così evidente come quando la chiudiamo in altro modo allora noi procederemo come fatto finora quindi sempre lavorando maglie alte su maglie alte facendo l'aumento di una maglia una catenella e una maglia in ogni angolo fino ad arrivare allo scalfo manica arrivata a 16 giri per la mia taglia naturalmente se voi dovete ingrandire la taglia sappiate che dovete fare più giri dovrete fare più giri allora vi dico quanti centimetri sono quindi per una taglia M sono questo metro è tutto rotto 18 cm quindi arrivati a questa altezza che per me è giusta andremo a fare il cambio colore e la chiusura per le maniche e faremo in questo modo vado a tagliare il mio filo quindi stacco questo filo fate una catenella di sicurezza e vado sempre sul retro ad attaccarmi con il filo nuovo quindi giro il mio lavoro per la lavorazione mi metto o sul fianco come volete o al centro io di solito preferisco prediligo il fianco perché anche con la chiusura invisibile un pochino si vede e sul fianco rimane un po' più mascherato quindi entro proprio nel raglan e ci entro da entrambe no no anzi entro nel raglan scusate perché devo fare delle catenelle quindi scusate ogni tanto mi confondo quindi entro e la prima la faccio così io prendo entrambe i fili così la catenella rimane più spessa e sembra quasi una maglia alta quindi inizio a lavorare tutte le mie maglie alte in questo modo fino ad arrivare fino ad arrivare al prossimo raglan arrivati all'angolo vedete al raglan al primo raglan che incontriamo entriamo ci lavoriamo la maglia alta facciamo una due tre e quattro catenelle ovviamente se voi avrete bisogno di più aumenti nella scalfomanica ne farete di più dipende se questa misura sarà già alla metà della vostra circonferenza oppure dovrete raggiungere comunque una circonferenza più ampia deciderete ovviamente quattro da questo lato e quattro da questo lato io faccio poi se a voi ne servono di più ovviamente ne farete uguali sotto uno scalfo e sotto l'altro io ne metto solo quattro poi carico il filo cerco l'altro raglan questo qui ci entro e faccio normalmente la maglia alta tenetela allora fate la strettina tenete il filo molto ecco stretto scusate dovevo caricare tenetelo molto stretto perché se no vi fa proprio uno spazione ecco qua così dopodiché ricominciate a lavorare tutte le maglie sottostanti arrivati anche a questo raglan lavoriamo una maglia alta al suo interno facciamo una due tre quattro catenelle andiamo ad unire con la terza catenella di inizio giro in questo modo e così abbiamo chiuso vedete la nostra il nostro vestito in questo modo ora tagliamo il filo faccio anche gli effetti sonori sfilo ed ora le codine andrò a nasconderle sotto al filo nuovo quindi riprendo il colore chiamiamolo primario per il momento entro sempre nella terza catenella prendo il filo in questo modo faremo le tre catenelle un po' cicciottine prendendo tutti i due fili ogni volta che cambieremo il filo quindi invece di fare la maglia con la torsione per simulare la prima maglia questa la facciamo sempre con le tre catenelle perché rimane molto più stabile quindi ora andiamo a fare un giro di maglia alta anzi ne faremo quattro di questo colore mettendo e io lo farò sul retro sempre sul retro a caso senza una posizione ben precisa quindi sul retro metteremo sempre un aumento per ogni giro perché da questo momento in poi noi dobbiamo andare a svasare il nostro vestito quindi faremo un aumento per ogni giro di lavorazione se poi a un certo punto vedete che sta diventando troppo largo potete fermarvi e questo lo faremo fino alla fine del vestito se vi piacerà l'ampiezza che andiamo a raggiungere quindi adesso vado avanti con le maglie alte e in questo giro vedete vado a fare il mio primo aumento eccolo qua fatto il mio primo aumento io continuo ricordatevi solo di non fare aumenti su aumenti quindi se in questo giro avete fatto l'aumento qui nel prossimo giro fatelo da un'altra parte perché se lo fate sempre aumento su aumento vi fa la punta diventa brutto da vedere quindi ne mettete uno qui nel prossimo giro magari lo mettete più in mezzo nel giro dopo lo mettete da questa parte poi lo rimettete se volete potete farlo anche sul davanti io ho detto il retro perché magari rimane meno visibile però va benissimo anche fatto sul davanti se volete distribuirli meglio ora il vestito procede sempre nello stesso modo io ho deciso di tenere il mio vestito a manica corta se volete allungare la manica potete tranquillamente allungarla tenendo conto di dover diminuire ad ogni giro di una maglia fino ad ottenere la larghezza che vi occorre a quel punto procedete senza diminuzioni vi ricordo inoltre che ho fatto un solo aumento per ogni giro di lavorazione per tutta la lunghezza del mio vestito da chiusura a scalfo fino a bordo inferiore non ho mai fermata ho sempre fatto l'aumento per tutta la lunghezza la lunghezza del vestito la deciderete voi questo vestito è stile anni 60 quindi portato sopra al ginocchio vi consiglio se utilizzate il mio stesso filato quindi microfibra di non farlo troppo lungo perché la microfibra in fase di bloccaggio in fase del primo lavaggio tende a cedere quindi ad allungare il vostro vestito vi consiglio pertanto di rimanere piuttosto scarse nella lunghezza detto tutto ciò io direi che posso salutarvi il nostro vestito è concluso vi mando un saluto grande vi invito a visitare merceria italia artisan per questo filato e tanti altri vi lascio tutte le quantità in descrizione vi posso dire comunque che ho usato rispettivamente tre gomitoli di marrone e tre gomitoli di beige pari a 600 grammi per tutto il vestito scarsi 600 grammi scarsi non li ho utilizzati tutti quindi potete tranquillamente se dovete fare una S anche stare sotto ai 600 grammi io vi consiglio comunque di prendere 6 gomitoli per non incappare nel problema poi di non trovare lo stesso bagno nel caso non vi basti il filato vi saluto vi invito a visitare per l'appunto merceria italia artisan vi invito a venirmi a trovare nel gruppo facebook creando e chiacchierando con luci pucci e dani se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto cliccate la campanella per non perdere le notifiche a tutti i miei video vi mando un grosso bacio ciao ciao da luci a e Grazie a tutti.